Il giorno dopo le perquisizioni della Guardia di Finanza presso la sede dell'US Avellino e della Covizoc per reperire ulteriore documentazione in merito all'inchiesta partita lo scorso mese per ipotesi di reati tributari, sembra esserci almeno apparentemente un po' di calma in Casa Bianco Verde. L'inchiesta è infatti avviata dalla Procura della Repubblica di Avellino e che ora ha ampliato a sette gli indagati, tra questi anche il presidente Taccone, procede su un binario completamente diverso rispetto a quello che maggiormente interessa la Piazza Erpina, ovvero la riammissione al campionato di Serie B. La partita che si giocherà martedì mattina a partire dalle ore 10 presso il Collegio di Garanzia del Coni è slegata dalla questione giudiziaria che sta interessando il club bianco-verde e soprattutto a pochi giorni dal verdetto decisivo aumentano maggiormente le speranze di riammissione in virtù delle motivazioni del ricorso e di una dettagliata strategia difensiva messa su dal pool di legali capitanato dall'avvocato Edoardo Chiacchio. Nel frattempo anche la macchina organizzativa messa su dalla tifoseria bianco-verde per invadere pacificamente Roma procede alla cremente. Il corteo dei supporter Sirpini è stato autorizzato dalle forze dell'ordine e circa 4-500 saranno i tifosi all'esterno della sede del Coni in attesa del risponso finale che in maniera indicativa si avrà nel primo pomeriggio dopo che il Collegio di Garanzia del Coni a sezioni unite vista la contemporanea discussione di altri ricorsi si pronuncerà in maniera definitiva. E a proposito dei terzi interessati, secondo le indiscrezioni solamente la Ternana si è costituita parte civile altro aspetto fondamentale da registrare inoltre in questa lunga e tormentata estate anche lo slettamento dei calendari di serie B seppur mai ufficializzata dalla Lega la data del 31 luglio non ci sarà il sorteggio a cosenza tutto è riviato, secondo le indiscrezioni, a lunedì 6 agosto.